Siamo riusciti nell'impresa, abbiamo raggiunto 9.000 firme e devo ringraziare veramente tutti per aver dato un contributo fondamentale. Credetemi che senza le vostre firme, senza l'impegno di cittadini che si sono messi lì sul proprio computer a scrivere il nome e cognome e a firmare, questo ponte sarebbe rimasto un pericolo pubblico per la cittadinanza, sarebbe rimasto con una politica cieca all'esigenza di una cittadinanza, di una comunità asperense e ficarazzese che hanno la necessità di essere collegati fra di loro, sarebbero rimaste totalmente inascoltate. Adesso siamo arrivati al punto di poter dire vittoria, mezza vittoria, perché questo ponte adesso è in sicurezza, adesso è in sicurezza per i cittadini. Potremmo dire vittoria sul serio quando avremo dei progetti che in questo momento non ci sono, almeno per quella che è di nostra conoscenza, speriamo quanto prima che la politica che si sta muovendo nel parlare, fare dichiarazioni, cercare amicizie, contatti all'interno delle comunità asperenze di ficarazzi per tentare di raccogliere quanto più possibile da questo avvenimento, che cominci adesso a poter discutere seriamente di come fare un progetto, di rimettere in sicurezza questo luogo il prima possibile, perché ovviamente lo capiamo benissimo, siamo persone che camminano su questo territorio tutti i giorni, adesso devono cominciare a pensare sul serio, cosa che non hanno mai fatto, perché se ne fregavano in barba al pericolo pubblico di far passare le persone da qui, adesso comincino seriamente a guardare questo luogo come un luogo di priorità, di importanza, da rimettere a nuovo e noi saremo qua a controllare e a vigilare come sempre. Si pensava fra cittadini, c'è stato un assessore di ficarazzi che ha proposto un ponte, un passaggio militare, però come vedete bene, se date un'occhiata, qui ci sono delle case abusive, delle case che non sono propriamente in regola, suprospicenti al mare e che quindi dovrebbero essere sicuramente abbattute. Una sfida è quella al sindaco, alle amministrazioni competenti, fate un ponte alternativo per far passare i cittadini, cominciate a impegnarvi sull'edilizia che è stata fatta sulle coste in questi anni, quando non c'era nessuno all'amministrazione di questo comune, all'amministrazione di questi comuni, si parla di 20-30 anni fa, adesso si comincia a guardare alla mobilità, all'urbanistica e agli sfreggi fatti al fiume, alla costa e soprattutto alle comunità che pagano, che hanno case in regola e che hanno fatto sacrifici per avere queste case in regola. Grazie 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 Grazie